Sono il fratello di Giacomo, da 15 anni o anche più, anzi da più di 15 anni stiamo facendo delle iniziative a ricordare mio fratello e soprattutto lo ribadisco a ringraziare la cittadinanza per quello che ha fatto per mio fratello. Recentemente il professor Giuseppe Saviano e Salvatore Mazza mi hanno contattato per verificare una nuova iniziativa all'interno del periodo ferragostano, diciamo così, del ferragosta velinese. Era un'idea che avevamo proposto lo scorso 7 ottobre e quindi ho colto lo spunto dato dagli amici, ho colto l'importanza dell'emozione suscitata da Salvatore Mazza il 7 ottobre e quindi abbiamo ripreso e abbiamo dato seguito a questa iniziativa. Abbiamo chiesto l'intervento del Comune ad inizio luglio, quindi subito dopo le elezioni per dare modo alla cittadinanza di esprimersi e quindi per non interferire in nessun modo. Quindi abbiamo chiesto al Comune la possibilità di fare questa attività. Abbiamo avuto una risposta positiva alla disponibilità dell'assessore Mancusi e di tutta l'amministrazione e quindi andiamo avanti. Un'ultima parola che volevo dire, noi prenderemo sempre spunto, daremo sempre spazio a chi vorrà dare un seguito a questi spunti che abbiamo dato, insomma valorizzare la città di Avellino e la figura di mio fratello. Noi abbiamo organizzato un'altra iniziativa importante lì a Palazzetti in occasione dell'inaugurazione appunto di quella opera per Giacomo del Mauro. Ma Giacomo del Mauro è soltanto, diciamo, tra virgolette un simbolo perché lui sa significare la tenacia dello sport, i valori dello sport che devono essere rinverditi anche per altri atleti e altre situazioni. Abbiamo, tra virgolette, battezzato Giacomo come simbolo di alcuni valori sportivi e quindi portiamo avanti questo discorso. Insomma, ciò vale per tutti gli sportivi e soprattutto perché c'è la famiglia di Giacomo del Mauro, che è Salvatore Mazze ed altri che stanno portando avanti questo discorso in modo abbastanza corretto, semplice, umile. Ciò che piace a noi per portare avanti appunto, e chiedo scusi se mi ripeto, i valori dello sport e anche i valori del sociale. Ciò che piace a noi per i valori di Giacomo del Mauro.